Professore, fanno il loro ingresso alla Scuola di Medicina di Palermo i manichini, a che cosa servono? Sì, noi abbiamo pensato di inserire nell'offerta formativa didattica anche questi nuovi strumenti didattici che sono appunto dei manichini, dei fantocci, che sono l'uomo adulto, la donna adulta, l'adolescente, il bambino, il neonato che simulano in pieno l'organismo umano sia in condizioni di fisiologia, quindi le condizioni normali quindi lo studente può apprendere le manovre di semiotica, di visita, di ascoltazione, di percussione di un torace di palpazione di un addome, di palpazione dei polsi periferici sul manichino come se lo facesse su un corpo umano e inoltre questi fantocci possono simulare tutti i quadri di patologia, quindi possono simulare tutte le patologie che possono colpire l'organismo umano e quindi lo studente di medicina può trovarsi davanti a diverse patologie potendole affrontare non solo dal punto di vista della semiotica, quindi della visita, di evidenziarne le alterazioni che sono evidenziabili con la visita ma anche con gli strumenti diagnostici che oggi sono maggiormente in uso quindi l'ecografia, fare una biopsia ecoguidata, una laparoscopia, quindi tutte le indagini diagnostiche anche con le tecnologie che oggi vengono usate sono fattibili su questi manichini e non solo, si possono anche simulare traumi, traumatismi a livello addominale, a livello toracico ferite, suturare la cute, amputazione di arti e anche le tecniche di tipo terapeutico quindi le laparoscopie diagnostiche e terapeutiche quindi credo che siano dei mezzi moderni che la tecnologia ci offre per poter fare una didattica che sia una didattica che porti alla formazione di medici qualificati, competenti e con già un'esperienza pratica che possono acquisire durante i sei anni del corso di studi Questi manichini vengono settati con dei software? Questi manichini sono settati con dei software che sono modulabili quindi i software sono modulabili, quindi si possono simulare situazioni diverse di patologia, di esami di laboratorio alterati, in parte in toto e quindi sono dei software che sono modulabili e gestibili dall'operatore e tra l'altro tutto questo noi lo vogliamo realizzare non solo per gli studenti del corso di medicina ma anche già per i medici laureati perché logicamente il potere usufruire su questi manichini su questi fantoggi delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche nuove permette di poter fare aggiornamento anche per i medici che sono già in servizio presso la nostra struttura o presso strutture di ospedali dell'Interland cittadino È possibile utilizzarli anche per la chirurgia? Assolutamente sì, ripeto si possono simulare dalla struttura di ferite chirurgiche ad interventi chirurgici, soprattutto per via laparoscopica l'altra volta è stato effettuato un intervento di nefrectomia simulato un intervento di nefrectomia, quindi un intervento chirurgico simulato su questi fantocci grazie a questi simulatori Professore, in diverse parti del mondo la stessa cosa la fanno con i cadaveri? Sì, è verissimo, soprattutto negli Stati Uniti d'America questo è verissimo, da noi le sa che il reperire cadaveri avere a disposizione cadaveri che possono essere utilizzati a scopo diagnostico è molto più difficile c'è anche una normativa che è da noi in Italia differente da quella negli Stati Uniti ma il nostro intento è quello di formare un polo didattico informatico con simulatori che prevede anche l'uso se possibile e nei limiti che la normativa ci consente anche di cadaveri no 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 Grazie.